e c 300 ranger è la easy enduro secondo gas gas disponibile a fine gennaio prezzo indicativo di 7500 euro sempre da gas gas la gp 300 un enduro prontogara completamente tionizzata sarà disponibile da febbraio prezzo ancora da definire la gamma dell'enduro spagnole di gas gas si arricchisce con questa ec 200 disponibile sullo sordinazione da gas gas italia di caudio favro